Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 24 novembre, rassegna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio altotesino, Mohammed al-Masmud in regia, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Il Corriere, anzi chiedo scusa, l'Alto Adige, rifiuti, campagna shock, Bolzano, Seab, Muso Duro contro Sacchetto Selvaggio contro l'abbandono dei rifiuti, Verdi l'attacco, aeroporto inutile e dannoso, i Verdi criticano la struttura che passerà dallo Stato alla provincia, la politica primaria più vicina, gelo su di fede nel Partito Democratico, la cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, identica apertura, rifiuti selvaggi, 800 multe, le isole ecologiche diventano scena del crimine, i consumatori dicono ci vogliono più informazioni, orari, i medici ospedalieri temono i peggioramenti riguardo la normativa europea. La cronaca cura del quotidiano in lingua tedesca a Dolomiten ci si occupa di separazioni e divorzi, separazioni e divorzi, i consigli da parte degli esperti per evitare conseguenze, ripercussioni e traumi sui ragazzini, sui bambini, sui figli delle coppie che decidono di separarsi. La cronaca che arriva da Vienna trasferta con incontri con i massimi vertici istituzionali austriaci ieri per il presidente Kompacher insieme all'Ombam dell'SVP, Philip A. Hammer. Chiudiamo con il quotidiano Tagest Zeitung, la violenza sulle donne, 500 donne ogni anno chiedono aiuto per essere difese da uomini violenti, spesso e volentieri si tratta di compagni oppure ex compagni che già avevano dato allarmanti segnali di pericolo. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi le informazioni di Video 33. Grazie a tutti, vi ringrazio per aver guardato il video.